60 giorni di raccolta differenziata e di incontri con la cittadinanza di Chieti, a che punto siamo? Intanto siamo a un punto di grande soddisfazione sia per i risultati che la differenziata ci sta dando, ma ritengo di poter dire soprattutto per quello che sta accadendo, cioè la grande partecipazione, la grande condivisione da parte dei cittadini del progetto. D'altronde se non ci fosse questa condivisione, se non ci fosse soprattutto l'attività dei cittadini volta a far sì che la differenziata venga fatta, il progetto sarebbe già fallito. Questo è motivo di grande orgoglio, ma è anche motivo di grande soddisfazione per il fatto che oggi noi possiamo contare delle percentuali già importanti e ciò nonostante il servizio sia partito da non più di due mesi. Qualche criticità sempre per il centro storico, soprattutto sulla qualità della differenziata? Sul centro storico abbiamo delle criticità più che sulla qualità della differenziata, sul fatto che le vie del centro storico oggi impediscono, quantomeno rendono difficile la raccolta da parte degli operatori. Abbiamo delle vie dove è impossibile mettere i mastelli per strada, abbiamo necessità di realizzare delle isole ecologiche nelle quali far conferire poi i rifiuti differenziati e agevolare soprattutto il lavoro di chi li deve raccogliere. Prossimi step e soprattutto tra dieci mesi? Tra dieci mesi dovremo vedere se le criticità che oggi stiamo raccogliendo hanno trovato già soluzione e laddove non fosse possibile trovarle dovremmo rimodulare il progetto in modo da rendere assolutamente funzionale sia la raccolta che chiaramente anche la qualità del servizio che offriamo ai cittadini. Siamo partiti da zero, attualmente qual è la percentuale? Siamo oltre il 50% nel centro storico e dobbiamo chiaramente però aumentare la percentuale nelle zone dove siamo partiti successivamente, secondo il primo programma.